Doveva essere una vacanza come tante e invece per una giovane adolescente si è trasformata in un incubo. Lui, suo zio, ha 42 anni, lei, nipote, ne ha 15. L'orrore si sarebbe consumato proprio mentre la ragazza era ospite del fratello di suo padre a Sant'Agata dei Goti per qualche giorno di relax. A denunciare l'accaduto alle forze dell'ordine è stato proprio il padre della ragazza, nonché fratello dell'indagato, una volta appreso delle violenze che la figlia era stata costretta a subire a Sant'Agata dei Goti durante le vacanze. Fondamentale per il celere svolgimento delle indagini è risultato il racconto dettagliato offerto nell'immediatezza dei fatti dalla giovanissima vittima, riuscita a mandare alla madre alcuni messaggi su WhatsApp chiedendo aiuto. La quindicenne è stata raggiunta dai familiari e dai militari che l'hanno trovata in lacrime. Nei confronti del 42enne, fratello di suo padre, l'accusa è messa dal GIP del Tribunale Sannita e di violenza sessuale. L'uomo adesso è agli arresti domiciliari.